In questo video ragazzi ci proveremo quattro batterie estere di tre brand che troppo poco si vedono in Italia Funke Argento, Classic e Triplex ragazzi, tre brand molto particolari che in questo video vi faremo vedere Ciao ragazzi, benvenuti a Pirotec in Catorretta, io sono Nico e a cui abbiamo il buon Samu Ciao ragazzi, benvenuti, oggi siamo brandizzati e belli carichi Vero? Quanto è figo il merch che abbiamo su Colgo al balzo l'occasione per dirvi che ragazzi è arrivato il nostro merchandise Finalmente queste bellissime magliette, lui ha fatto una voce fantastica, la isoleremo a video E siamo carichi ma oltre le magliette per un video Solo con PLT Shopping potete acquistare una maglietta e avere un servizio di piatti tognana in omaggio Ragazzi, qua è sempre peggio, stiamo andando del degrado, è sempre maggiore Il caldo, il caldo Ma va bene lo stesso perché queste bombette qua ci faranno passare tutte queste cagate Eh, queste ci faranno scaldare per bene Ci faranno divertire perché Andiamo a vederle? Sì, andrei, però partirei con quella lì Partiamo di qua, vai Qua ragazzi abbiamo Akira Argento, 13 colpi, 30 mm, formato strano il 13 colpi In Italia non si vede tantissimo ma vi posso assicurare che ci sta se avete un effetto figo come l'hanno le Argento Ma poi è bellissimo, è tipo esagonale Non so, non so, non so È tipo semiesagonale La forma è bellissima 2, 4, sì, esagonale Esagonale Ma poi 325 grammi 325 grammi ha la stessa grammatura di queste qua che sono 25 colpi Ok, che sono 25 mm Però l'effetto sarà molto figo Ho già visto i test, questo qua è veramente un gran bel prodotto del resto Boom baby, quella bella E qua siamo ai livelli top dei fuochi d'artificio tedeschi ragazzi Poi abbiamo Doom Boom Eh, questa piace a te questa 25 colpi, 25 mm, tutto titanio Questa piace a te, sei un fan del titanio Sta casinarissima Passiamo invece all'altra Questa qui, la Casper Sono 25 mm, non titanio È legale entrare qua dentro con le moto Non penso È ancora meno legale scassarci le palle con queste sgommate Vabbè, andiamo avanti Quindi stavano dicendo Casper 25 colpi, 25 mm Questa non è titanio Ma è un mix di colori Che andremo poi a vedere Però ha degli effetti veramente molto fighi Non costava tanto Mi pare che era sui 17 Onestissimo E poi facciamo vedere L'ultimo bambinello Con cui probabilmente partiremo Volate gialle E botte al titanio Anzi è un'unica volata Che fa i sbruffi gialli Con botte al titanio E vi faccio solo vedere questo Quanto è grosso Il momento Quanto è grosso questo buco E così è brutto dirlo Il momento hot pirotecnico Mi assicuro Che sono delle bestie Pirotecnica a luci rosse Vietato ai minori di 18 325 grammi ragazzi Per questa bellezza Che la triplex È riuscita in una cosa allucinante Non ci crederete mai Ma questa è omologata In categoria T1 E mi direte E a me che minchia No T1 significa che questa belva La potete avere da 18 anni Perché è un dispositivo teatrale Quindi neanche un fuoco d'artificio Un dispositivo teatrale 18 anni Ve la pigliate Fate un bordello dell'anima Benissimo Tu sarai un po' di 18 anni Sì esatto E direi che adesso Andiamo a sparare Vai rampa di lancio Andiamo a vedere Bene ragazzi Andiamo col bestione di urno Salto indietro nel tempo fatto Salto indietrissimo Per i nostri cameraman In sicurezza Io vi consiglio qualche metro in più Eh? Sì sì andiamo indietro Andiamo indietro Perché questa è power Occhio che avete l'albero in mezzo Vai un po' più A destra Eh ma qua c'è No Samu fai una cosa Vai indietro No no vai là Ah sì Ok Bene ragazzi Andiamo Con questo bambinello Pazzesco qua Pazzesca 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 Mamma mia Cosa abbiamo appena visto Mamma mia Paurosa Indecente Spettacolo Spettacolo vero Puoi vedere i colpi che vanno su Sì Venirei Le botte in cielo Comunque lo sbruffo sempre il suo perché Secondo me Ma infatti sarebbe bello che facessero batterie solo fumogene Solo diurne Eh sì Fighe 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 Chissà se mai capiranno Ok iniziamo con Akira Funche argento 13 colpi 30 mm Scappa veloce Questa bella vera Bella vera questa raga Bella vera Mamma mia Bellissima questa Pazzesca 25 colpi classic 25 mm Sì 25 mm Bella Bellissima 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 l'hanno cambiata non ci sono più i fischi in questa nuova casper bellissima fischi bella vero bellissima il missilone questo è puramente casino aspetta ma questa tanto casino ragazzi quanto spinge questa è bella si vince che ha tirato delle botte vai tuo prefi a caldo la casper casper se io fun che anche se la casper aveva questa car per è quella che ha cambiato tutti gli effetti allora casper pazzesca i vari effetti di varietà bella vera veramente bella anche l'argento fun che la prima bellissima anche quel onestissima livello alto stiamo parlando di 25 mm va bene lo sappiamo però coca né qualità se volete sapere bellissimi dove prenderle scriveteci in dm che vediamo tutte le informazioni per prenderle dire che ne valgono la pena veramente ve lo assicuro ragazzi casper argentone per capodanno si può stare vi ringraziamo ragazzi per aver seguito questo video seguiti su instagram telegrat youtube x tutti i nostri social 1 euro al mese pyronation se volete ci date una grande mano e sostenerci grazie di iscrivervi grazie del merce se lo acquisterete pensate ragazzi con una felpa che ci acquistate ci permettete di portare banalmente una cento colpi in più sono piccole cose che ma ci che ci permettono veramente di fare tanto e ne approfitto per ringraziare i tanti che si sono già abbonati e che già ci sostengono grazie ragazzi perché siete veramente grazie esatto grazie a tutti gli abbonati che ci permettono di andare avanti con questo questa nostra passione che speriamo diventerà qualcosa di arrivaggio ciao ragazzi